E se ti dicessi che in Sardegna esiste la prima mostra permanente di storie e torture medievali? Siamo ad Iglesias presso il castello di Salvaterra o di San Guantino, che insieme all'antica villa di chiesa fu edificato nel XIII secolo per volere del conte ogulino dei Don Oratico della Gerardesca come baluardo della città. Lui è Enzo Cascilli, ex minatore e maestro d'arme dell'associazione Compagnia Balestrieri Fontana di Iglesias, che per circa 15 anni rileggio custodi gli strumenti di tortura utilizzati nel Medioevo anche dal Tribunale dell'Inquisizione. Interessanti da ammirare, ma sconsigliati per i deboli di stomaco, la culla di Giuda, la garrotta, il tavolo da stiramento, la sede inquisitoria, lo schiaccio a testa, il letto chiodato, la ruota della tortura, l'impalamento. Al piano superiore sono custoditi piccoli oggetti, tra cui le maschere della falsa testimonianza, gli strizzasseni o la forcella dell'eretico, in più una bellissima collezione di armi da battaglia. E ora vuoi sapere come visitarla?